Con il Presidente regionale, una ripartenza alla grande, ad Ascoli, dopo questo lockdown che ha bloccato un po' tutto. Sì, ci voleva, grazie quindi alla CC Dreambike, grazie a loro volontà e alla possibilità di riorganizzare con i protocolli previsti dalla Federazione Cicliste Italiana nella sicurezza, questa ripresa dell'attività e grazie, devo dire, anche alle società che sono venute qua, in questo velodromo, già da tempo per ricominciare a fare gli allenamenti. Poi questo appuntamento, i due giorni di gara internazionale, credo che sia una cosa molto importante per tutta l'Italia, segue un altro appuntamento grande che è quello di Fiorenzola, quindi la possibilità degli atleti dell'altra nazione di rimanere qua per fare l'attività e è importante aver abbinato una gara per giovanile, gli esordienti, gli allievi, uomini e donne perché così hanno potuto vedere, imparare anche da questi atleti internazionali la tecnica e la capacità che hanno nell'andare in pista. Anche noi a Presidente abbiamo chiesto nazionale, per quanto riguarda durante il lockdown c'è stato uno sviluppo dell'e-sport, secondo lei cosa ne pensa di questa situazione dell'e-sport nel mondo del ciclismo? Diciamo che c'è stata una risposta grande, una richiesta di bicicletta, di andare in bici, quindi molto importante è stato questo aumento dell'uso della bicicletta anche per mezzi di lavoro, quindi il ciclismo esce vittorioso dal punto di vista delle adesioni e dell'interesse sulla bicicletta. Il ciclismo secondo me sta insegnando molto anche nella riorganizzazione dell'attività, come stanno ripartendo oggi la Miano Sanremo, qua nelle Marche, abbiamo avuto già una gara nazionale di junior, se ne avremo un'altra domani con oltre 230 partenti, quindi sta insegnando come riorganizzare un po' tutta la vita negli eventi di massa, di gruppo. Io credo che potrebbe essere presa ad esempio anche per qualche altra attività commerciale per cercare di avere distanziamento l'attenzione che ancora dobbiamo conservare per combattere questo virus e che non è sparito purtroppo.